Nello scorso weekend i carabinieri della stazione di Ogliastro Cilento hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne pregiudicato che in violazione dell'articolo 73 è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente nell'atto di spacciare. Nel corso dell'attività i carabinieri hanno sequestrato una dose di cocaina mentre lo stesso la stava smerciando e nel corso della successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dell'arrestato sono state rinvenute ulteriori dosi della medesima sostanza, il tutto debitamente sequestrato. L'arrestato dopo le operazioni di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella medesima circostanza i militari operanti segnalavano alla competente autorità prefettizia quale assuntore, un giovane del luogo.